Tutto è bene, quel che finisce bene, almeno per Max dei Fichi d'India. Dopo l'incubo di un intervento di mini addominoplastica finito male, Max Cavallari dei Fichi d'India mostra il suo nuovo corpo a Domenica Live. Il comico, accompagnato dalla moglie Manuela, si è sottoposto ad una liposcultura addominale con l'aiuto dell'equip medica del dottor Lorenzetti, in una clinica di Siracusa, e ora sta bene. Sono rinato, racconta a Barbara D'Urso, dopo l'incubo che ho passato, adesso sto bene. Seguirò alla lettera il decalogo del professore, e mi rimetterò in forma. Ad augurargli buona fortuna per la sua guarigione, anche la figlia Alice che in un videomessaggio gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione. Ad augurargli buona fortuna per la sua guarigione.